Una terra di frontiera. Il Friuli Venezia Giulia è stato negli ultimi 150 anni una terra di frontiera. Con la dissoluzione del blocco dell'Est nel 1991 e l'ingresso della Slovenia e della Croazia nell'Unione Europea, si è trovato ad essere al centro del continente, ma ha beneficiato di questa nuova situazione solo in piccola parte. Lo stato prolungato di servitù militare ne ha profondamente segnato il territorio e la coda lunga delle violenze del Novecento ancora oggi ne determina, almeno in parte, il destino, non solo quello economico. Il rombo di caccia in decollo o atterraggio ad aviano, la più grande base aerea militare americana dello scacchiere mediterraneo, dove nel 2022, in piena guerra Russia-Ucraina, secondo avvenire, erano conservate almeno 20 testate nucleari, fa da sottofondo la vita quotidiana di chi vive la grande pianura del tagliamento, fra Pordenone e Udine. Poco prima della pandemia, con la strategia nazionale per le aree interne, abbiamo organizzato un incontro con i servizi sanitari dei paesi della Carnia nell'area industriale di Maniago. La discussione era continuamente interrotta dalle vibrazioni e dai sordi rimbombi provenienti da un enorme hangar vicino, dove un'immensa macchina stampa ancora oggi cannoni per le corazzate dei paesi nato. Ma del resto la riconversione economica dell'area è molto difficile, soprattutto nelle aree più spopolate della regione. Il numero di strutture e infrastrutture militari abbandonate, soprattutto nelle vallate delle Alpi Carniche e Giulie, supera la capacità locale di utilizzarle utilmente per costruire una nuova economia, mi dice Maurizio Daici, un funzionario riflessivo del servizio montagna della regione Friuli-Venezia-Giulia, con cui abbiamo viaggiato in lungo e in largo il nord-ovest della regione per alcuni anni. Vive a Udine, Udin in Friulano, Videm in serbo-croato, Weidem in tedesco, una delle città italiane dove storicamente convivono più lingue e, come tutti i suoi concittadini, è tifoso dell'Udinese, ma è anche una città in cui l'amministrazione comunale si distingue per la durezza e la crudeltà con cui tratta i migranti provenienti dalla rotta balcanica, come denunciano molte ONG locali. Le iniziative e i progetti dei comuni, delle università, dei cittadini sono tanti, ma i costi sono altissimi e la popolazione troppo scarsa, continua Maurizio. Lavoriamo insieme, lui per la regione, io per lo Stato, in un'area che complessivamente, con i suoi 7,1 abitanti per chilometro quadrato, è forse la meno popolata dell'intero paese.